Antonello mi vede e mi dice senti Giovanni, in carcere ci sono Pertini, Saragat, noi vogliamo far sentire loro che fuori siamo anche noi. Poi insomma è una cosa un po' ambigua perché insomma non è troppo, le cose hanno delle contrazioni che non le puoi immaginare quello che succede, va bene e allora viene e mi dice senti studia un attacco al carcere di Regina Celi in modo che quelli che stanno dentro sentono i botti, sentono ta 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 ta.